Agnese Monaco Tanto vi ringrazio, sono Agnese Monaco e vi leggerò Nel mio buio. Nel mio buio osservo questo schermo bianco, arrappito da finzioni e solitudini, melate in sorrisi di porcellana, dove fangocitano sentenze per ogni respiro taciuto oltre i sentieri del dolore. Questo è un po' un'altra brevissima, sempre dal mio ultimo libro intitolato La sintesi di me stessa, che ricordo, tutte le provanti saranno devoluti alla Smile House fondazione che si occupa di operare bambini nati con malformazioni al volto. Si chiama Scusa se sopravvivo. Scusa se sopravvivo a questi dolori che attanagliano la gola. Scusa se dalle mie labbra sborgano sorrisi. Per ogni volta che sento la vita torna a me. Scusa se la merito fluir del vento scontiglia il mio battito caldo ed amorevole. Scusa se vivo e nell'esistenza non mi stanco mai. Grazie a tutti. Grazie.